Adesso è ufficiale, il Giro d'Italia torna in Versilia a maggio 2023 con una doppia tappa, quella di arrivo martedì 16 maggio a Viereggio, quella di partenza il giorno dopo da Camaiore. Il percorso della centoseesima edizione della Corsa Rosa, che si aprirà in Abruzzo il 6 maggio e si chiuderà il 28 a Roma, è stato finalmente svelato, dopo settimane di indiscrezioni, nella conferenza stampa tenuta da RCS al Teatro Lirico Gabber di Milano. Si tratta della decima tratta del Giro, 190 chilometri con partenza da Scandiano, in Emilia, diretti al valico appenninico del Passo delle Radici e poi a Monte Perpoli e giù attraverso la Valle del Serchio, tagliando le porte di Lucca per il Monte Magno, fino all'arrivo in Piazza Mazzini a Viereggio, teatro naturale del Giro, come l'ultima volta nel 1982. Il 17 maggio partenza da Camaiore, il via dalla nuova piazza a 29 maggio, la Corsa Sul Lungomare della Versilia, direzione Tortona, 218 chilometri. Due percorsi ciclistici catalogati come di bassa difficoltà, ma ad alta tensione si annunciano invece le due giornate in rosa per il territorio versiliese. Viereggio si appresta a godere di una vetrina mediatica eccezionale all'inizio della stagione estiva, per la quale l'organizzazione ha chiesto al Comune un contributo di circa 200 mila euro, meno della metà, circa 80 mila, quelli chiesti per la partenza del giorno dopo, da Camaiore decisamente meno mediatica, ma sempre dal grande impatto emotivo per gli sportivi.